Platano e Alessandro stanno vivendo dei bellissimi momenti assieme. I due innamorati in questi giorni sono nella bellissima costiera ammalfitana, proprio per godersi un po' di tranquillità assieme. Il suo ex Riccardo Guarnieri non fa che lanciarle continue frecciatine e inoltre la povera Ida ultimamente è attaccata con presunte insinuazioni che lei ha scelto Alessandro solo per interesse. Infatti Alessandro le fa fare la bella vita, la porta in giro per il mondo. Mi ricordate il viaggio a Miami, a Firenze e quello bellissimo di Parigi? Insomma, la povera Ida è continuamente sotto pressione, tanto che stamattina ha parlato su Instagram. Buongiorno belli miei, buon lunedì, è tutta tranquilla detto. Mi sono stancata e annoiata di leggere alcuni commenti, ma soprattutto di chi scrive, tu stai insieme ad Alessandro solo per? E lei risponde che sì, è sempre mantenuta da sola, se sta insieme ad Alessandro e perché lo ama. Insomma, il mondo è pieno di gelosi. E voi? Che dite?